Palazzo de Sancti sa molto da dare, per fortuna è tornato all'antico splendore, questo grazie alle leggi dello Stato, alla bravura della sovrintendenza all'ora dell'intero Abruzzo, l'architetto Collettini. Voglio ringraziare l'ordinamento del Ministero della Cultura, il sindaco di Letto Monoppello, Sandra Di Felice, una persona che ha dedicato tempo e passione per ritrovare la storia di questo paese, di questo territorio e del rapporto con la città di Chieti e con l'intero Abruzzo. Voglio ringraziare la professoressa De Sanctis Ricciardone, un ordinario di antropologia che non ha dimenticato per strada il valore dei beni irripetibili. Questo è un bene irripetibile che non era giusto, che finisse all'interno di un contenitore delle proprietà private, ma deve diventare giacimento per stimolare il pensiero creativo, intuitivo, libero e liberato in maniera tale che possano nascere occasioni di formazione culturale. Siamo in un tempo nel quale l'ordinamento costituzionale si sta rinnovando. Si può cucire passato e futuro, proprio come racconta questa bandiera. Si andava verso l'Italia Unita e si è cucito il rapporto con l'ordinamento di Casa Savoia. La signora, donna Dorinda De Sanctis, cuce a mano, volendo dire tutto il suo coinvolgimento, il simbolo della bandiera che è simbolo di unità, è simbolo di progetto e simbolo di memoria. Io mi sento di dire grazie alla professoressa De Sanctis Ricciardone, che a mio avviso ha interpretato al più alto livello la ricchezza di cui è stata veicolo e portatrice. Oggi però l'abbiamo vista anche emozionata, perché lei è stata a più riprese protagonista di tanti tagli del nastro. Però questa struttura, a pochi passi dalla sua casa paterna, ha un sapore del tutto particolare. Sì, anche perché questa casa nel corso dei decenni è stata sottoposta nel passato lontano ad un safari distruttivo. Vederla ritornato all'antico splendore mi sembra che sia stato un capolavoro, frutto del pollice degli uomini che hanno lavorato, anche di un'intelligenza divina, io dico. La professoressa De Sanctis Ricciardone mi correggerebbe dicendo di un'intelligenza del destino. Intelligenza divina, intelligenza del destino, bravura degli uomini, hanno riportato alla luce questo edificio che meritava di essere con questo splendore, con questa capacità di significato. Sono molto contento. E grazie ancora alla professoressa De Sanctis, a Sandra Di Felice, al sindaco di Lettono Pello, che ha reso possibile la facilità delle procedure perché problematizzare era facile, come accade in Italia. E voglio ringraziare anche l'associazionismo locale che mi aiuterà per fare in modo che qui ci sia cultura, coltivazione dell'animo e dei progetti.